Assessore Ripani, parliamo di turismo, di quello che sarà dopo la situazione Covid qui nel comune di Tortoreto e se comunque ci sono degli eventi in programma, soprattutto per le prossime feste natalizi. Sicuramente una località come Tortoreto non può non pensare al turismo anche in una situazione di emergenza perché il turismo è la colonna portante della sua economia e del suo tessuto imprenditoriale. Quindi siamo sicuramente all'opera già per la programmazione della stagione 2021. Ho avuto già un incontro con il Comitato Turistico Permanente e poi con gli operatori di categoria anche perché stiamo già stabilendo quelle che sono le strategie di promozione e di vendita per il 2021. Non dobbiamo farci trovare impreparati. Quindi sicuramente partiranno delle iniziative tra le quali sicuramente va ricordata la nascita del nuovo brand Tortoreto, la pubblicazione dello stesso e anche del nuovo portale, quindi promozione online, ma grazie anche alle economie che quest'anno abbiamo purtroppo dovuto fare a causa dell'emergenza Covid ma agli incassi comunque notevoli dell'imposto di soggiorno andremo anche a prevedere delle spese di investimento per abbellire e riqualificare il territorio che decideremo anche queste in maniera concorde con gli operatori proprio per far trovare la cittadina pronta per l'estate 2021. Per quanto riguarda invece gli eventi imminenti purtroppo appare sempre più difficile programmare e realizzare degli eventi natalizi quindi stiamo a vedere ciò che accade e naturalmente anche lì vorremmo dare un po' di stimolo culturale alla località però appare davvero improbabile in questo momento. Peraltro noi abbiamo anche richiesto di finanziamenti alla Regione Abruzzo quindi avevamo dei progetti già ben definiti per il Natale quindi attendiamo anche di vedere l'esito di questi bandi cui i nostri uffici hanno partecipato ma chiaramente dobbiamo considerare la possibilità di riprogrammarli magari quando l'emergenza sarà meno grave dello stato attuale quindi sicuramente abbiamo delle progettualità stiamo a vedere quando possiamo realizzarle diciamo non ci perdiamo d'animo però al momento appare molto improbabile. Ecco un occhio di riguardo ovviamente per la prossima estate, l'estate del 2021. Assolutamente sì, l'estate 2020 ci ha dimostrato che il turismo è un settore forte che quindi anche subito dopo un'emergenza sanitaria c'è richiesta c'è richiesta di periodi di vacanza, quindi di accoglienza e tortoretto a questa vocazione. Per questo sulla scorta anche dell'esperienza di quest'annata vogliamo programmare al meglio e farci trovare pronti. Purtroppo ecco lo scorso anno ci siamo dovuti adeguare in corsa ma di massima adesso sappiamo come comportarci, sappiamo i protocolli sappiamo quelle che sono le esigenze anche delle persone e quindi siamo all'opera per organizzarci al meglio.